Bella a tutti asfaltoni, benvenuti e bentrovati su LeonTube, eccoci in questo video per andare a vedere il livello 12 dell'evento speciale Apollo Evo prima però ragazzi un bel mi piace, iscrivetevi al canale e andiamo subito a vedere quali sono gli obiettivi tre corse perfette, qui con la cura dovremmo riuscire a prendere tutte le condizioni tra l'altro se non lo avete potete andare a prendere anche la chiave, però dovete comunque avere l'auto a 5 stelle allora, termina la gara, corse perfette, tempo con nitro, con la BMW tanniche raccolte 7, corse perfette 3, con la cura, tempo 1.49, 3 nitro perfetti 4 onde nitro, 7 acrobazie e vinci la gara, ok proviamo subito a vedere se è fattibile con il touch, anzi vediamo subito se è fattibile normalmente, dobbiamo fare 3 corse perfette la corsa perfetta è quando non andiamo a sbattere dai lati della pista, quindi nei muri laterali o nelle colonne o ostacoli centrali, quindi non ci schiantiamo, ma anche strisciare farete qualcosa che rompe diciamo questa corsa perfetta, che viene fatta all'inizio se riusciamo a non sbattere per 15 secondi, poi circa ogni 10 e ci siamo qua, ecco la forza perfetta ce l'ha data, adesso cerchiamo di ecco qui adesso abbiamo il battuto, quindi dovrebbero darcela in quel caso riparte il tempo da guardo qui, difficilissimo come l'ho ripresa per un pelo no perché c'era anche la grupazia da fare qui adesso abbiamo il battuto qui adesso abbiamo il battuto tra l'altro sembra tosta anche per la lagata è tosta da vincere, ecco per quel tempo 1.37 vediamo se sono riuscito a fare tutte le condizioni sono 28 in tutto no, ah beh quella 1 era della bmw quindi anche qua ci partono un sacco di gettoni intanto questa l'abbiamo fatta le acrobazie l'abbiamo fatte onde nitro nitro perfetti tempo taniche 7 taniche, questa non l'abbiamo fatta ok e poi ovviamente questa non l'abbiamo fatta andiamo a fare un'altra run qui ha Ho capito che manovra, perché mi faceva 3.60. Allora, adesso mettiamo il dash drive per andare a prendere le tanniche. Non è ricca di tanniche nitri questa pista. Potrei essere a 5.6.7.8. Vediamo un po' com'è andata. Forse si riesce a fare anche tutta in touch drive. Ok, perfetto. E con la BMW invece è da fare l'obiettivo. Tempo con nitro, quindi facile da fare. E facciamo l'ultima run. Vediamo in touch drive se si riesce a prendere tutto. Soprattutto a vincere la gara, vediamo un po'. Se serve ancora. No, ok, non serve più vincere la gara. Quindi possiamo andare tranquillamente di touch drive, così vediamo se riusciamo a vincere. Ovviamente qui l'auto è potenziata al suo massimo. O quasi. Che l'abbiamo quasi al massimo. Ok, andiamo a vedere. Are... Oh. 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 Grazie. Grazie. Ok, si fa anche il touch drive con l'auto al suo massimo. L'avete visto, è abbastanza semplice. Perfetto, quindi andiamo a fare, in questo livello, andiamo a fare tutte le conduzioni e riusciremo anche a fare quello di domani. Direi perfetto. Questi li abbiamo fatti tutti. Ok, manca questo che si fa. In più sono le sette taniche. Poi, facile è facile. Quindi ce ne mancano ancora due, quattro, dieci, undici, dodici. Andremo a 2,52. Quindi andremo a sbloccare anche questa. Poi anche questa abbiamo l'auto al massimo. Quindi andremo a prendere anche queste quanti. Andremo a 2,80. Ora abbiamo la possibilità di andare a sbloccare la Panamera con la caccia all'auto che troviamo negli eventi giornalieri. Il video, ragazzi, termina qui. Mi raccomando, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo presto con altri video. Ciao a tutti.